amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazione autosportive adesso siamo qua in officina con in compagnia di giuseppe che ci descriverà grosso modo che cosa come funziona il modulo multiere abbiamo un problema con una giulietta che monta appunto questo in questo sistema brevettato dal diciamo del gruppo stellanti del gruppo ex fiat che ha determinate caratteristiche diciamo in alcuni per alcuni versi estremamente positivi per altri a volte problematici quindi io direi passo la palla direttamente la parola direttamente giuseppe che vi spiega come funziona il multiere e quali sono le problematiche e come si possono risolvere come è il caso di questa giulietta ti spiego brevemente come funziona il multiere il multiere praticamente viene comandato anche meccanicamente dall'alzata delle valvole dall'albera cam che muove schiacciando la molla lui alza le valvole queste sarebbero come se fossero delle valvole che lui le va a premere per appunto alzare le valvole di aspirazione essendo un gruppo elettronico anche qua ci sono montati quattro chiamiamoli vanus ma non sono proprio dei veri vanus che cosa fanno aprono i passaggi dell'olio e cambiano la variazione dell'albero a cam in modo che la macchina guadagna più cavalli e tutto diciamo una volta era era meccanico con le pressioni dell'olio adesso loro gruppo fiat appunto gruppo stellantis l'hanno ampliato mettendo questo multiere che ha tanti bei difetti come dei pregi pregi molto motore molto più reattivo motore molto più pronto sull'aspirazione il difetto diciamo che questo che lavorando con olio un dei passaggi veramente microscopici la manutenzione richiesta molto frequentemente giustamente tante persone magari aspettano a fare l'italiano ma altre varie lui si va a bloccare all'interno con dei passaggi dell'olio e non funziona per questo caso qua questo modulo che abbiamo sostituito era il terzo cilindro che non lavorava più questo cilindro questa è la sua bella molla che mi va a schiacciare vedete adesso è molto scarica perché non avendo olio non c'è pressione vedi io schiacciando qua lui va a spingere le e schiaccia le valvole questo abbastanza semplice come funzionamento ma complesso nello stesso tempo stato un bel bel bella invenzione con difetti e pregi ecco tutto qua ecco quindi come vi ha spiegato giuseppe avete capito quali sono i pregi difetti di questo sistema io chiuderei ricordando appunto la l'importanza della gradazione dell'olio e della frequenza dei cambi olio perché il problema sostanziale è un olio che va a bloccare poi il funzionamento delle delle valvoline come vi ha spiegato giuseppe quindi uno dei motivi è uno dei motivi per i quali recentemente usano degli oli molto particolari su questo tipo di sistema va usato un olio specifico un 5 v 40 quindi nel momento in cui uno sbaglia la gradazione dell'olio o allunga le diciamo le i servizi di cambio olio poi si creano questo genere problematiche purtroppo questo non è un pezzo ribisionabile aveva proprio sostituito quindi con costi anche abbastanza impegnativi quindi mi raccomando sulla manutenzione sulla la frequenza piuttosto cambiatelo mille chilometri prima che non mille chilometri dopo io direi che anche per questo discorso che riguarda il multi air che verrà appunto montato che è montato su tanti motori e fiat in questo caso o altri in questo caso verrà montato su una giulietta per oggi è tutto per qualunque informazioni sapete esattamente dove trovarmi quello che vi chiediamo è cliccare sulla campanella e rimane e iscrivetevi al canale per rimanere sempre iscrivetevi sempre aggiornati su quello che noi facciamo un saluto alla prossima iscrivetevi al canale